Sono Marco Sirtori, docente di letteratura italiana contemporanea all'Università degli Studi di Bergamo e ormai sono parecchi anni, credo una decina, che seguo il progetto On The Road e quindi l'ho visto crescere negli anni e ogni anno arricchirsi di proposte diverse. Il coinvolgimento dell'Università in quanto istituzione importante del territorio è nato quasi in contemporanea con questo progetto. Il Rettore da allora Stefano Paleari e quello di oggi, Remo Morsenti Pellegrini, hanno sempre seguito questo progetto con grande interesse perché viene a inserirsi perfettamente nel percorso formativo dei nostri studenti, ma anche più in genere rappresenta una importante esperienza di vita. Gli studenti dell'Università di Bergamo da sempre sono chiamati soprattutto a svolgere il ruolo di giornalisti sul campo, di veri e propri reporter, un tipo di attività che ancora affascina molto i giovani. Infatti devo dire che noi abbiamo rivolto questa iniziativa dapprima sempre agli studenti di comunicazione, di lingua e letteratura straniere che ci sembravano quelli più interessati potenzialmente a impegnarsi, appunto poi anche professionalmente nel campo del giornalismo, ma abbiamo raccolto negli anni un interesse sempre vivo anche da parte di studenti che in realtà seguono corsi di laurea molto diversi. Abbiamo avuto studenti di ingegneria, di giurisprudenza, di economia che hanno chiesto di fare questa esperienza e molto spesso anche se questa esperienza non poteva essere conteggiata all'interno del loro piano di studi, quindi anche se non dava adito a dei crediti formativi. Quindi abbiamo trovato sempre questo entusiasmo nel partecipare anche al di fuori dell'impegno richiesto dal proprio percorso. E questo è sicuramente indice dell'interesse notevole che ancora riveste presso i giovani questo tipo di iniziativa che è unica, insomma credo nel panorama nazionale, anche se si sta ampliando nel corso degli anni, insomma sono state toccate realtà territoriali ed assume oggi davvero una dimensione nazionale. Ecco, questo entusiasmo, questo interesse viene dal fatto che i nostri studenti abbiamo detto soprattutto vengono impegnati come reporter e devono quindi seguire i ragazzi delle superiori che lavorano a fianco delle forze dell'ordine durante la loro attività quotidiana. Ma in realtà anche i nostri ragazzi vengono coinvolti in queste attività, quindi diciamo c'è anche l'attività di sensibilizzazione, quindi sulla responsabilità che appunto devono affrontare sulla strada quotidianamente, le esperienze più varie che sono state offerte in questi anni, poi come appunto il contatto con le forze dell'ordine, ma anche con i vigili del fuoco, le guardie forestali, le esperienze diverse che sono davvero un'occasione unica per i nostri studenti.